E' andata Pasquale Di Lorenzo della Rocca Bike con 2 ore e 58 minuti e pochi secondi l'undicesima edizione della Matesanio Marathon, seguita a ruota dal secondo Ennio Leone della Mastantuoni Sport e terzo Pasquale Siricao della Bike Cycling Team, un circuito di 106 km che ha attraversato ben 14 comuni del Casertano e del Beneventano, comprendendo i circuiti più belli del centro-sud e una cicloturistica denominata tra borghi e vigneti di circa 35 km, un vero tour in bici tutto da pedalare attraversando borghi, aziende, vinicole, colline, fiumi, vigneti e panorami mozzafiato, una competizione che anno dopo anno, al di là dell'aspetto agonistico, diventa sempre più importante nell'ampio panorama cicloturistico italiano, ottima anche l'organizzazione. Da Telesedermi è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it